Val Sugana Calavino I due pareggi consecutivi testimoniano il buon momento dei gialloverdi, chiamati ora a rompere la maledizione del proprio campo. Riusciranno i rossonieri a fare bene anche lontani da casa? I due pareggi. Riusciranno i rossonieri. Bravo, bravo! Riuscir, Riuscir! Dai, dai! Dai, dai! Grazie a tutti. Grazie a tutti.